Dove viene lei? Padova. Come sta andando questa fiera? Insomma non ancora sul previsto, speriamo che oggi migliori un po', non tantissimo a flusso come gli altri anni. Sono solo gli altri miei colleghi come l'hanno vista, però ho visto le pubblicità fatte in giro, sono ottime, niente da dire. Nel sabato ha lavorato? Il sabato ho lavorato, ho lavoricchiato, ho fatto niente di super, però si spera oggi nel miglior dell'ipotesi, ecco tutto là. Ho lavorato tanto, sono contenta, carica a bomba, no scherzo, no è andata bene, sono contenta, è un bel mercato, un tempo bellissimo finalmente. Per lei è andata molto bene? Sì, sono contento, molto soddisfatto della fiera. Che cosa cercano comunque le persone? Roba particolare, roba che nella casa ha il suo effetto, oggetti normali qualunque, oggigiorno non va più, è cambiato un po' il sistema, la mentalità. Oggetti importanti, particolari che riempiano la casa e hanno il ricordo anche di Arezzo e che hanno comprato un bello oggetto. Va benissimo, va benissimo. No, davvero? Sì, sì, certo. Da dove venite? Prato. C'è gente? Sì, 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 molto, molto. Un buono flusso gente, molti stranieri, molti turisti, quindi abbastanza contenti. A che cosa sono interessate le persone? Beh, stranamente noi abbiamo venduto molto oggetti religiosi, quindi non è proprio strano, è un caso madonna, crocifissi, cosa così. Bene, sì, bene, una bella fiera, bel tempo, tanti clienti. Sono disposti a spendere? Insomma, ci stanno attenti.